Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ducale dal salone del maggior consiglio di solito stracolmo di ascoltatori e invece in questo in questo periodo scenario delle nostre conversazioni oggi abbiamo un ospite di eccezione che forse non ha bisogno di presentazioni ma mi fa piacere presentarlo con tanta gioia, si tratta del direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini Paolo Giulierini è archeologo, è super direttore premiato, lo posso dire con grande orgoglio perché è mio amico quindi ci daremo del tu, lo dico già in questa conversazione, è stato il suo museo il miglior museo italiano secondo Art Tribune 17, Paolo il miglior direttore ma quello che mi piace dire di lui in fase di presentazione è veramente un direttore che ha fatto dell'accessibilità al patrimonio uno dei motori del suo operato e questo si è molto riflesso sul suo museo, sul successo del suo museo, sulle tante cose che ha fatto e proprio parlando di interpretazione del patrimonio oggi siamo qui per raccontare di un'altra nuova avventura di divulgazione come dice Alberto Angela nella fascetta della copertina di questo volume uno straordinario viaggio nel Mediterraneo antico tra popoli e civiltà scomparse un esempio di quanto sia prezioso il patrimonio silenzioso dei nostri musei quindi ringraziamo e diamo il benvenuto a Paolo tra l'altro ricordiamo che il Museo Archeologico di Napoli è anche prestatore di alcuni camei straordinari che abbiamo qui a Genova nella mostra di Michelangelo quindi doppio grazie e comincio subito a chiederti come è nato il progetto di Stupor Mundi e che cos'è questo volume? Intanto grazie dell'invito Serena sono emozionato e felice insomma di essere qui anche se virtualmente con te il volume è nato come una risposta quasi una sorta di contrapposizione al muro, al blocco costituito dal Covid è stato un po' chiedersi come possiamo continuare a fare i nostri viaggi li possiamo fare attraverso la fantasia, attraverso l'immaginazione e allora da qui l'idea di prendere 30 oggetti del museo e ubicarli non tanto nel luogo dove sono stati rinvenuti per via degli scavi archeologici ma nei luoghi nei quali sono stati generati oppure nei luoghi ai quali fanno riferimento i miti rappresentati allora così si è creata una nuova cartina diciamo così dove sono stati posizionati questi 30 oggetti che in qualche modo raccontano i luoghi più interessanti del Mediterraneo ma anche luoghi un po' più distanti dal Mediterraneo ma collegati comunque con esso E la cartina che tu dici che si trova dentro al volume è proprio un invito al viaggio è una mappa che intanto fa capire però una cosa fondamentale che i nostri musei conservano un patrimonio non solo enorme dal punto di vista numerico soprattutto musei ricchi come quello che tu dirigi così bene ma in realtà che questi oggetti contengono poi dentro loro stessi storie Pomian che noi storici dell'arte citiamo spesso dice appunto che gli oggetti sono portatori di significato e di narrazione e tu questo lo racconti molto bene anche perché questa cartina a cui facevi riferimento è amplissima perché si fa dagli etruschi ai romani, bizantini, greci e fino all'Oriente fino all'India ma senza spoilerarci troppo il contenuto di questo volume come hai scelto questi oggetti e quali sono secondo te quelli più rappresentativi poi ti dico il mio preferito ma intanto sentiamo te Allora ne cito alcuni perché hanno permesso in qualche modo da una parte di capire quali sono le arterie culturali che si immettono nel Mediterraneo come se fosse un grande fiume che riversa nel Mediterraneo cultura, saperi anche sapori che vengono da luoghi molto lontani tra questi ad esempio non possono ricordare una statuetta indiana di produzione indiana trovata a Pompei che rappresenta una divinità dell'amore, della bellezza e la della Lakshmi e che rappresenta un oggetto tangibile di quello che fu il vorticoso commercio in età romana tra Roma e l'area delle Indie in particolare non solo per avere l'avorio come nel caso della statuetta che è realizzata da una zana di elefante ma soprattutto per avere le spezie come il pepe e tanti altri oggetti particolari come ad esempio una serie di conchiglie che si ritrovano costantemente a Pompei e vengono dall'India e allora l'idea è quella di immaginarsi questi vascelli romani che sfruttano i monzoni e arrivano addirittura in questa parte estrema dell'Oriente conoscendo un luogo esotico, conoscendo i fakiri per esempio e da qui con un passaggio aritroso ci si ricorda come Alessandro Magno stesso che è un altro dei protagonisti del nostro museo che ospita il celebre mosaico di Alessandro contro Dario III di Persia avessero subito lo stesso fascino ricordiamo che i filosofi che seguirono Alessandro in questa campagna conobbero i fakiri e che erano nominati dai greci come dimno sofisti cioè i sofisti nudi, sapienti nudi fino ad arrivare negli anni Sessanta i Beatles che in questa voglia di esotico di tornare alle radici della filosofia fecero il famoso viaggio ecco insomma esistono delle costanti che in qualche modo fanno pensare come si ripetano certi eventi nel tempo e così chiudo, ne cito solo un altro per esempio il famoso affresco con Medea che medita di uccidere i figli rinvenuto anch'esso a Pompeia conservato al nostro museo è l'occasione per fare un passo nella Colchide che è questa regione straordinaria che secondo il mito era ubicata vicino al Mar Nero dove era presente il vello, il vello d'oro e sappiamo che Medea aiutò ovviamente il capo degli argonauti a ritrovare il vello e però praticamente fu successivamente tradita e addirittura giunse a uccidere i figli ecco questo duplice volto di questa giovane che è al contempo esperta di stregoneria ma può raggiungere anche questo abisso è come emblematico perché dalla Colchide arriva anche altre streghe fra virgolette particolari come Circe che in qualche modo poi ecco lei che incanta Ulisse e i propri diciamo marinai che vengono tramutati in porci ma come dire la prosecuzione del cammino dell'idea della donna che ha anche questi lati oscuri continua per esempio in Campania con la tradizione delle Janare quindi le streghe di Benevento e anche arriva al fumetto Disney di Amelia che è la strega, la fattucchiera che sta sotto il Vesuvio e perché tutta questa paura del mondo femminile? Questa paura del mondo femminile perché evidentemente all'uomo fa molta paura fin dal mondo antico una donna che è colta una donna che possiede i misteri della medicina e tutto ciò che come dire mette in discussione l'idea della forza dell'uomo nel mondo antico ma devo dire anche nel mondo contemporaneo se si pensa anche all'episodio di due giorni fa senza citarlo fa meditare moltissimo Tu stesso scrivi una cosa che è molto interessante cioè dici l'obiettivo di questo tuo lavoro è quello di tornare a stupirsi di fronte alla diversità mi piace molto questa considerazione della diversità come motore di stupore diversità che poi confluisce tutta nell'umanità che è una sola ed è un concetto bellissimo che credo che i nostri musei raccontino molto bene e quindi visto che tu hai fatto diverse volte riferimento a Pompei magari è importante ricordare il patrimonio che conserva il tuo museo che naturalmente appena si potrà quantomeno viaggiare per l'Italia raccomandiamo di andare a visitare ma poi parleremo dopo anche delle iniziative che hai in cantiere quanto è grande il patrimonio del museo che tu dirigi dal quale hai attinto solo 30 oggetti perché conoscendolo immagino che avrei fatto una fatica terribile in mezzo alla straordinaria ricchezza ricchezza che tu hai ma magari per i miei co-regionali e per tutti quelli che ci ascoltano se riesci a darci così una sintesi del nucleo dal quale tu hai tratto solamente 30 oggetti sì all'inizio ne avevo scelti un centinaio poi ovviamente l'editore mi ha detto ciao però era comunque nulla di fronte al patrimonio che può mettere in campo il manna che come è noto possiede collezioni che provengono da Pompei del Colano ma anche storiche collezioni che provengono da Roma e che quindi insomma appartengono per parte di madre alla famiglia del fondatore diciamo così del museo che è Carlo e successivamente il figlio Ferdinando di Borbone il museo nasce intorno alla fine del Settecento per capirci dopo la fase di fortunati scavi di Pompei del Colano e in tutto gli oggetti esposti nel museo sono alcune decine di migliaia ma il patrimonio raggiunge quasi il milione di oggetti e sono ci tengo a dirlo oggetti frutto di una sofisticata selezione da parte dei monarchi quindi ciò che in questo momento è nei depositi che sono denominati con il nome di Sing Sing un nome perché assomigliano molto al carcere americano non è di classe inferiore a ciò che è esposto semplicemente non c'è spazio ed è per questo infatti che il museo alimenta il 75% dei prestiti interi del ministero in tutto il mondo perché naturalmente insomma è straripante la quantità delle collezioni ovviamente sono collezioni antiche e alle collezioni greche e romane si affiancano anche quelle magno greche e anche quelle egizie quindi nell'ottica dei musei che sorgono tra Sette e Ottocento doveva esprimere un po' all'inizio la forza del regno successivamente l'idea di un museo che avesse una campionatura di tutte le collezioni quindi è stato un po' difficile scegliere però ecco nella scelta ci siamo fatti un po' travolgere dalle possibili connessioni insomma come per esempio quando ho scelto la Venere in bikini come dire la scelta è stata sì legata al fatto che questa meravigliosa statua che viene da Pompei conserva tracce di colore ma anche perché avevo in mente la scena famosa di Ursula Andres quando esce dalle acque nel film di 007 perché poi alla fine il fascino rimane eterno e costante insomma a quella femminile e da quello che dici si capisce anche la voglia che hai di mescolare linguaggi che poi è quella che ha caratterizzato anche diverse iniziative che hanno visto il man animarsi negli ultimi anni e dici bene dei pezzi di grandi valore alcuni lo diciamo subito sono molto famosi e ritroviamo sicuramente nei nostri ricordi perché sono su tutti i volumi hai parlato già del mosaico di Alessandro che tra l'altro in questo momento lo vogliamo dire è oggetto di un intervento di restauro importante che lo restituirà alla comunità al suo massimo splendore oppure come il ritratto di Safo mi viene in mente che molti di noi certamente hanno visto sui libri e non sanno che bisogna andare a vederlo al man ecco però ci sono anche dei pezzi che così molto più delicati che mi hanno colpito e ad esempio c'è questa bambola in osso che mi ha lasciato che mi ha intenerito perché in questo volume ho trovato che ci sono le macro storie le grandi storie appunto c'è Alessandro c'è l'arcole farnese che si vanno a incrociare ad unire a storie più piccole ed è molto bello perché rende vivace la narrazione e avvicina ancora di più il patrimonio soprattutto quello archeologico che qualche volta è un pochino più più complesso da raccontare qualche volta è semplicissimo qualche volta è complessissimo avete voi che dirigete musei archeologici c'è anche questo ulteriore compito che è difficile quindi qualche cosa sulla storia di questa bambola in osso Sì, la bambola è stata scelta perché rappresenta una storia molto intima se in questo libro ma anche nel museo si va da opere gigantesche come appunto il Toro Farnese come l'Ercole ad opere minime, piccole ma più che piccole per dimensione perché appartengono a piccole storie ma storie di grande umanità dietro questa bambola c'è un mondo il mondo femminile ma soprattutto il mondo che precede la pubertà femminile che in Grecia ma anche a Roma era connotato anche dai giocattoli ovviamente parliamo sempre delle famiglie un po' pioggiate e allora si fabbricavano soprattutto a Roma però le bambole sono testimoniate anche in Grecia e anche ad esempio nell'antico Egitto delle bambole snodabili talora in osso talora in terracotta a volte anche in avorio che avevano addirittura anche dei piccoli set che permettevano poi di giocare quindi anche oggetti in miniatura che appartenevano alla stessa bambola probabilmente anche dei vestiti che però non si conservano allora molto spesso purtroppo queste bambole si ritrovano nelle sepolture femminili di quelle ragazze di quelle bambine che non sono riuscite ad arrivare al momento della pubertà perché come è noto quello era il momento in cui la bambola veniva consegnata nel Tempio della Dea perché la ragazza diventava diciamo potenzialmente una sposa e quindi si doveva pensare alla dote e la bambola non si portava più dietro questa ragazza purtroppo se l'è portata dietro per l'eternità perché non ha fatto tempo a diventare sposa allora c'è un messaggio un po' malinconico e però come dire per dare subito una scossa mi sono riagguantato diciamo l'idea della Barbie e quindi come dire una intuizione che si ebbe negli anni 60 di smarcarsi dalla riproduzione di bambole che rappresentavano dei neonati e di andare su una bambola come la Barbie che rappresentava un'adulta e questo era la stessa diciamo così tipologia di bambole che abbiamo nel mondo antico quindi l'intuizione che ebbe diciamo la moglie di Mattel diciamo così non era nuova era già stata realizzata ci avevano già pensato mancava la grande distribuzione all'epoca diciamo così però ecco sono simmetrie veramente importanti poi naturalmente le bambole antiche non sono riuscite a fare quello che ha fatto Barbie perché Barbie guida qualsiasi mezzo terrestre volante credo una cinquantina di lauree molti fidanzati insomma lì andiamo su livelli che il mondo antico non è riuscito a raggiungere ma ti faccio ancora una domanda che riguarda il mare perché è un momento che qui da Palazzo Cale stiamo proponendo molti molti volumi e molti spunti sai noi siamo come Napoli una città affacciata sul mare e al mare dobbiamo molto e siamo molto legati ecco allora da tutto questo panorama da questo mosaico tanto per per ricordare ancora ancora Alessandro che tu hai composto che tipo di Mediterraneo viene fuori qual era l'umanità che si affacciava sul Mediterraneo beh quello che viene fuori è innanzitutto come ha detto molto meglio di me Brodel che il Mediterraneo è sempre stato una madre accogliente una madre accogliente che accoglie tutti i nuovi venuti e che però gradualmente nell'accoglierli li plasma quasi in forma in forma diciamo così nascosta e li rende nuovi quindi è la somma di tutte queste civiltà che si sono succedute cito solamente così per ricordare i fenici poi dopo i punici che sono i fenici che si sono insediati diciamo nelle coste d'Africa i greci i micenei prima gli egizi sulle coste dell'Africa fino ad arrivare anche voglio dire dopo i greci e romani anche alle popolazioni germaniche quelle slavi ecco ognuno ha portato diciamo così un aspetto culturale diverso che si è sovrapposto e che in qualche modo è diventato qualcosa di nuovo ora pensiamo a quello che è successo l'altra sera per esempio al Cairo quando c'è stata la sfilata dei faraoni uno stato che è musulmano tutto sommato quindi come dire è di tradizione araba nel momento in cui deve in qualche modo proclamare con forza diciamo così la muscolarità del governo non parla di Maometto ma parla dei faraoni allora vedete come è molto più complessa diciamo così questa miscellana mediterranea che peraltro non solo diciamo ha mescolato le carte rispetto alla cultura e ha messo insieme ad esempio nomadi e sedentari ma anche diciamo così aggregato in un unico specchio d'acqua i tre più grandi monoteismi che si conoscano e quindi come dire il cristianesimo il giudaesimo e la religione araba accanto al paganesimo che non è mai venuto e meno perché basta girellare per le strade di Napoli per esempio nei crocicchi nei vicoli e si assiste diciamo ad altarini ad ex voto che sono perfettamente profondamente permeate diciamo delle antiche religioni e quindi anche le religioni stesse insomma si rimescolano di continuo conclusione la diversità è ricchezza il diverso non deve far paura ma anzi diciamo così è una possibilità immensa per crescere è un messaggio tanto antico quanto potente ancora oggi perché poi quello che provo spesso a dire è che chi come noi ha il privilegio di lavorare con il patrimonio è sempre sulla contemporaneità riceve sempre continue suggestioni suggestioni contemporanee e proprio per parlare di contemporaneo il tuo museo è veramente in continuo movimento in tutti questi in questi anni avete operato moltissimi moltissimi cambiamenti ecco adesso che cosa sta succedendo siamo siamo chiusi aspettiamo di aprire ma che cosa sta succedendo al man di Napoli ma in piccolo diciamo come il libro è stata una piccola rivolta contro il covid ci siamo ribellati anche ma come hai fatto anche te diciamo così allestendo una mostra importante dedicata ai gladiatori però affrontati anch'essi con un taglio nuovo non solo come beniamini degli anfiteatri come eroi del pubblico ma il loro lato umano di persone strappate dai confini remoti dell'impero ex schiavi o ex militari portati via dalle loro famiglie costretti a combattere per avere salva la vita ecco allora questa storia di oppressione ma anche di riscatto è stata un po' diciamo così la nostra risposta perché crediamo che durante il covid ci siano stati veramente tanti gladiatori e i primi gladiatori ovviamente sono stati i medici il personale che ci ha rimesso proprio la vita combattendo in prima linea e ai quali siamo tutti grati e infatti la mostra non termina con l'aspetto archeologico che pure è importante perché ha tutte le armi dei gladiatori di Pompei mosaici che vengono coscene di gladiatori dalle parti più lontane dell'impero come l'Elvezia la moderna svizzera come York in Inghilterra ma continua con una sezione dedicata alla fortuna dei gladiatori e si parla di momenti in cui si fa riferimento ai film del genere peplum ma si passa anche per la Lego per il Playmobil per le carte Yu-Gi-Oh che hanno ottenuto diciamo fortuna che si sono ispirati ai gladiatori e si finisce con i gladiatori di oggi che sono diciamo così da una parte quelli dell'immaginario collettivo quindi voglio dire Francesco Totti per esempio è a pieno titolo riconosciuto a Roma un gladiatore ma si chiude con alcune foto veramente di medici che hanno fatto tanto in questo periodo e anche di grandi donne per esempio che per noi sono gladiatrici come Samantha Cristoforetti per esempio che ha sfidato lo spazio insomma e che anche in quel caso è stata pesantemente messa da parte da un gruppetto di uomini insomma di dubbio diciamo di dubbio giudizio quindi è una mostra di speranza anche questo è una mostra che vuole che vuole dire dobbiamo ripartire però come diceva il motto anche del film di Russell Crow bisogna si vince solo se si sta tutti uniti quindi questo è il momento della unione non della divisione come purtroppo in Italia si sta assistendo beh è una mostra che mescola ancora ancora i linguaggi io ho potuto vedere alcune delle foto che avete pubblicato con anche dei pezzi magnifici devo dire c'è un percorso è un percorso all'estivo veramente impressionante e come mamma sono anche grata dell'attenzione veramente per il pubblico dei bambini e dei ragazzi che non è facile portare al museo prima di salutarci prima di salutarci ci si sta ancora interrogando sulla definizione di museo ICOM sta ancora raffinando e sta provando a dare una definizione certamente i musei non saranno più uguali a prima questo è in dubbio già il Man non lo era era già orgogliosamente diverso rispetto agli altri musei ecco come saranno i musei del domani del futuro come l'immagini tu che già in un museo del futuro ci stavi perché credo che il Man fosse uno dei musei sia uno dei musei più all'avanguardia della nostra penisola come saremo domani? Io credo che naturalmente insomma ci possono essere contesti diversi ma in generale credo che i musei del futuro debbano innanzitutto essere coscienti che la loro funzione non si esaurisce nell'adeguamento dei famosi standard di qualità che erano eminentemente concepiti per avere una macchina perfetta dal punto di vista formale ma non avere un cuore i musei del futuro devono avere un cuore e avere un cuore significa avere a cuore la propria comunità e seguirla considerare una sconfitta personale anche del museo se il quartiere non cresce e assurgere diciamo così ad una identità ad un valore politico politico nel senso migliore del termine nel senso che il museo è partecipe della politica della polis della città e in qualche modo deve avere anche il coraggio di prendere posizioni io credo che il più grosso errore che ci sia stato nei tempi passati è che i musei dovevano essere politicamente corretti cioè non esprimersi credo invece che l'opposto li debba caratterizzare nel futuro i musei devono essere se vogliamo politicamente scorretti o comunque prendere posizione di fronte all'ingiustizia di fronte al fatto che magari tanti bambini non possono avere lo stesso livello di studio creare occasioni per gli ultimi essere inclusivi avere una forte caratteristica di osmotica essere una grande piazza nella quale ci si confronta magari non ci si trova d'accordo ma come dire si tira fuori le voci dei vinti faccio un ultimo esempio il nostro museo è per esempio l'espressione della romanità voglio dire Roma è una sirena da tanti punti di vista per i monumenti che ha creato ma andiamo a chiedere agli ebrei che furono sterminati a Masada o ai diciamo così ai britanni che furono fatti a pezzi dalle legioni di Claudio se quello era diciamo così il loro sogno e allora visto che tutto si può vedere da mille punti di vista il museo non deve dare una posizione ma deve insegnare ad essere critici ad avere una propria opinione e quindi a prendere una posizione questo credo sia il museo del futuro un luogo dove si fa crescere realmente i cittadini non nei valori come dire della nostra tradizione ma nei valori di tutte le tradizioni la funzione dei luoghi della cultura e credo anche che il luogo dal quale dal quale ti parlo Palazzo Ducale quindi è questa città Genova abbia con Napoli e con il ruolo della cultura che voi state ricoprendo in quella città molte similitudini le nostre le due città hanno veramente delle linee delle linee comuni un altro comune amico Silvain Belengeno dice che siamo città gemelle Silvain Belengeno il direttore del museo di Capodimonte e quindi credo che veramente possiamo comprendere sperimentare meglio di altri questo ruolo che tu dicevi che io condivido pienamente quindi arrivati al momento di salutarci dobbiamo ricordare molte cose innanzitutto Stupor Mundi di Paolo Giulierini edito da Rizzoli che trovate in libreria poi sperando di riaprire presto la mostra di Michelangelo qui al Ducale che ha tra i prestatori anche il MAN e poi tutti a Napoli a vedere gladiatori un ringraziamento particolare al direttore Giulierini un ringraziamento particolare a voi che ci avete seguito grazie a tutti